Il calcio femminile, la Fiorentina è la prima società di inglobare nel proprio club una squadra femminile, che prospettive ci sono? Ma intanto, diciamo finalmente, era ora che una squadra professionistica prendesse questa iniziativa, grazie anche a una deroga che è stata concessa. Non succede altro quello che nel giro per l'Europa e per il mondo sta succedendo da tantissimi anni. Io mi auguro che sia solo l'inizio di una crescita, di uno sport che ha grande potenzialità, che ha tante bimbe e ragazzine che si sono avvicinate e vogliono praticarlo, solo che a volte non trovano l'opportunità. Quindi l'esempio della Fiorentina, come l'obbligo che le società professionistiche di A e di B quest'anno hanno, perché devono tesserare 20 under 12, sia appunto l'inizio di uno sviluppo importante. Insomma la Fiorentina può fare da apripista? Sì, me lo auguro, perché spesso in Italia per imitazione, no? Poi si fanno le cose perché non si vuole essere da meno, quindi ad oggi al momento sappiamo solo come prima squadra la Fiorentina. Però visto che l'opportunità rimane ancora aperta, perché non essere seguita nell'immediato da qualcun altro oppure più realisticamente tra un anno. Ci sono dei club che si sono fatti avanti, che magari sei a conoscenza di qualche società che è interessata a fare come la Fiorentina? Sì, guarda, meglio non fare nome per scaramanzia, perché sennò a volte sembra quasi di dover chiedere anziché lasciare libera iniziativa. Certamente so che parecchie squadre stanno approfondendo il discorso, perché partendo già dal settore giovanile, poi è chiaro che c'è sempre la voglia di avere anche una prima squadra. Quindi anziché aspettare tutto il percorso della trafila giovanile, magari stanno pensando nel breve e medio periodo di attivarsi anche con una prima squadra. Guarda, considera il Lione, considera l'Arsenal, considera il Bayern di Monaco, cioè tutte realtà che da anni hanno al loro interno la sezione femminile, si tolgono grandi soddisfazioni. Quindi perché non farlo anche noi qui in Italia?